I dati, la classifica del dove curarsi in Italia, cura di un sito specializzato, pone per vari reparti, per varie tipologie di cure legate a diverse malattie, anche gravi gli ospedali toscani con buoni risultati. E' l'ospedale Fiorentino di Careggi, luogo dove curarsi meglio in caso di tumore all'apparato muscolo-scheletrico o nel caso di frattura di tibia e perone, lo dice la classifica stilata dal sito dovecomemicuro.it che si definisce la guida Michelin della salute. Careggi figura anche al secondo posto per l'angioplastica coronarica, il tumore alla prostata e allo stomaco, al terzo posto per l'intervento all'orecchio medio e la frattura al collo del femore, al quarto per il tumore alla mammella. Buone posizioni anche per l'azienda ospedaliere universitaria di Pisa, al secondo posto per la cura del tumore al pancreas, al quarto per quella del tumore allo stomaco e al polmone e per l'intervento all'orecchio medio, al quinto posto per la cura del tumore al fegato. L'azienda ospedaliere universitaria di Siena è invece al secondo posto per l'intervento dell'orecchio medio. Questo è un riconoscimento che va ad aggiungersi ai tanti che abbiamo già avuto nei mesi passati, commenta l'assessore al diritto alla salute della regione toscana Stefania Saccardi. Questi risultati sono il frutto del grande impegno che abbiamo messo in questi ultimi tempi per rendere sempre migliore il nostro sistema sanitario.